Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Il protagonista di oggi è l'amatissimo Donald Duck. Sì, lui, Paperino. Ah, oggi particolarmente allegro, di solito è sempre arrabbiato. Ah, ecco, così me lo ricordo. Mi soffermo in particolare su una storia recente, esilarante, pubblicata su Topolino numero 3391 e scritta da Paul Hallas, autore inglese, e disegnato invece dall'italianissimo Marco Rota, il cui tratto barxiano, cioè classicissimo, che ricorda e rimanda al tratto di Karl Barks, il più grande autore e disegnatore di Paperino, Paperone e Company, che mette il suo segno meraviglioso, in particolare in questa storia è davvero molto in forma il suo disegno, a servizio di una storia che possiamo, a tutti gli effetti, definire barxianissima, in pieno stile, cioè Karl Barks. È la storia di Paperino fotografo espressivista e tratta di un concorso fotografico che avviene a Paperopoli, a cui partecipa Paperina, la quale invita anche Paperino a parteciparvi e a lui gli viene un'idea naturalistica. Dice, sì, potrei fotografare qualche animale nel bosco. E da lì iniziano una serie di classiche peripezie slapstick, dove Paperino si trova, per fotografare gli animali, a essere inseguito da qualunque tipo di specie animale, terrestre, alata e acquatica, da cinghiali a gufi fino a specie di pirania. E ogni volta che urla, strepita o va a sbattere contro qualcosa, scatta involontariamente una fotografia. Una fotografia che lui crede essere fatta agli animali e la espone a questa mostra di Paperopoli. Ebbene, la sua esposizione al più grande successo di tutte, perché il nostro si era sbagliato. Non soltanto aveva subito tutte quelle angherie per tutta la giornata, ma aveva anche invertito l'obiettivo. Cioè, invece di scattare fotografie agli animali, aveva scattato dei selfie. Selfie che riproducono le sue facce nei momenti più disastrosi. Quindi, facce di Paperino mentre grida, mentre si lamenta, mentre scappa terrorizzato, mentre trema di FIFA. E la gente dice, ma questo sì che è un capolavoro. È un capolavoro non espressionista, ma espressivista. Cioè, delle sue espressioni facciali. E una cittadina di Paperopoli dice, che papero, che genio. Mentre un altro dice, l'autore è stato impietoso con se stesso. Poi ovviamente Paperina si arrabbia, perché lui le ruba la scena, gli dà uno schiaffo e finisce genialmente la storia con la sua faccia disastrata sotto la foto della sua faccia disastrata. Ecco, questo per tutti quelli che dicono, ah, ma quello lì al massimo avrà letto Topolino. Avercene di gente che legge Topolino. Avercene. Il mondo sarebbe senza dubbio un posto migliore. Ma quello che ci interessa qui, nel risultato del nostro amatissimo compagno di sventure, è il fatto che non si può mai dire. Non è mai detto che da un evento negativo non scaturisca qualcosa di sorprendentemente positivo. L'insegnamento meraviglioso, magico di Paperino è, aspettati ogni giorno, sempre una sorpresa. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!